Guardate questa coppietta a diamanti. Questi sposini sempre innamorati. Lei sta facendo i grattini a lui. Tania Assaccia. Se gli avessi messo il nido sarebbero tornati in amore per la terza volta. Non era giusto. Loro devono riposarsi fino a settembre. Guardate come sono carini. Quella a destra è sascia con la sestina rossa e quella più scura è Tania. Perchè ancora non l'avessi capito.